Paolo Cugno ha confessato, è stato lui ad uccidere la compagna ventenne Laura Petrolito. Ai carabinieri di Canicatini Bagni ha indicato il luogo in cui aveva gettato l'arma del delitto, forse un raptus di gelosia alla base dell'omicidio che ha scosso l'intera comunità di Canicatini Bagni. Il sindaco Marilena Miceli ha cancellato le celebrazioni per San Giuseppe previste per oggi. Laura e Paolo avevano un bimbo di otto mesi, era il secondo figlio per la giovane, mamma già di un pargoletto di quattro anni, nato da una precedente relazione. Era stato il papà di Laura a lanciare l'allarme sabato notte, non vedendola tornare a casa. La coppia con il bambino viveva infatti con il genitore di lei. Il telefonino era sempre spento, il corpo della ragazza è stato poi ritrovato in fondo a un pozzo artesiano in contrada tradituso al confine tra il territorio di Canicatini Bagni e quello di Noto. La ragazza aveva ferite in tutto il corpo, probabilmente è stata raggiunta da diverse coltellate, soprattutto al petto e sul torace, prima di essere gettata nel pozzo. Il cadavere è rimasto incastrato tra le lamiere e non è arrivato in fondo. L'assassino avrebbe provato a spingerlo giù, poi lo ha coperto con il coperchio di ferro e si è allontanato. Le indagini sono subito scattate. Il compagno è stato posto sotto interrogatorio. Nella notte ha confessato. E sì, oggi purtroppo continuiamo ancora sulla scia di ieri. Ieri è stata una giornata drammatica per la nostra comunità, per la triste notizia che ha coinvolto una nostra piccola concittadina. Devo dire che la comunità si è stretta immediatamente attorno a tutta la famiglia. Le famiglie distrutte sono due da questo vile gesto, da questo atroce gesto. Le istituzioni, da questo punto di vista, devono essere sempre presenti sul territorio e devono tenere i riflettori accesi. Non a caso, e sembra proprio un segno del destino, noi avevamo iniziato questo mese di marzo dedicato alle donne, abbiamo portato avanti una serie di iniziative a partire dalla posizione di una targa, giorno 3 marzo, in onore di tutte le vittime del femminicidio, così come arrivavano le istanze da parte delle associazioni di categoria. Canicattini è stato il quarto comune ad apporre questa targa. Successivamente abbiamo fatto anche una serie di incontri di sensibilizzazione con gli studenti del liceo scientifico, quindi noi continuavamo a tenere e a sensibilizzare la nostra comunità su queste cose. Poi invece una tranquilla domenica di marzo si trasforma poi in un dramma per tutta la comunità. le istituzioni continuano ad essere presenti sul territorio, sono a fianco alle due famiglie, sono a disposizione per qualsiasi cosa, così come è stato in questi anni comunque, così come è necessario per il senso di responsabilità che deve distinguere gli uomini e le donne delle istituzioni, continuiamo da questo punto di vista a far sentire la nostra presenza costante sul territorio.